Vi sono molto interrogato in queste ultime ore su che cosa ha suscitato in noi la morte della piccola Elena, una madre che uccide la figlia che ha messo al mondo perché, secondo gli inquirenti, da una prima ricostruzione non avrebbe accettato il fatto che questa bimba andava d'accordo con la nuova compagna del papà della stessa Elena, una motivazione che certamente ha spinto molti sui social in questa corsa a dire tutto quello che pensiamo a rifugiarsi nella follia. È molto facile dire vabbè ma tanto è follia, una madre che uccide una figlia è follia. Su questo ha ragione Paolo Crepè, non possiamo pensare che tutto quello che non ci piace è follia e non possiamo non ripensare a quello che diceva Pirandello che tutto sommato dobbiamo anche rispettare le persone folli. Ed allora penso al ragazzo di Napoli, figlio adottivo, che ha deciso di uccidere a coltellate la madre. Anche quella che cos'è follia? E in effetti c'è da chiedersi come mai tutta questa ondata di cattiveria la dobbiamo sempre imputare alla follia e non la possiamo imputare invece a un ragionamento lucido. Ripenso per esempio alla mia visita ai campi di concentramento. La cosa che mi ha lasciato veramente perplesso è come poteva un essere umano pensare di fucilare prima e poi di mettere dentro un forno per lasciare solo le ceneri un altro essere umano. Eppure questo è successo e cosa abbiamo detto che era follia? E' molto semplice, è una società che tende a semplificare tutto. Ci sono le devianze sulla rete? Colpa delle tecnologie. Ci sono gli omicidi incredibili, fratelli che uccidono fratelli, mamme che uccidono i figli, figli che uccidono i genitori e ci nascondiamo dietro la follia. E' una società che non ha tempo da perdere, è una società che non ha voglia di riflettere, è una società che non si mette in discussione, è una società che ci piace vivere così. Per poi magari piangere quando vediamo una bimba uccisa da una madre che decide di farla a pezzi e di metterla dentro un sacco, di sotterrarla e poi dire che è stata sequestrata da tre uomini armati. Ecco, tutto questo non ci deve mettere nelle condizioni di aggredire sui social la madre, ma ci deve far riflettere su una società che è incapace di intercettare i disagi. Questo è quello che stiamo vivendo. E' una società egoista, incapace di pensare che gli altri esseri umani possono avere bisogno di noi, possono avere bisogno di qualcosa che sia un atto di solidarietà, anche un sorriso a volte basta. E allora io ripenso al sorriso della piccola Elena e resto con questa immagine, fissa nella mia testa, di una bimba che corre verso la mamma, che l'abbraccia e che ha voglia di vivere, ha voglia di sognare, ha voglia di diventare qualcuno, ha voglia di essere anche una persona normale. Ma tutto questo l'è stato impedito da una mano assassina ed è la mano della persona che l'ha messa al mondo.